Da domani 15 dicembre alle ore 12 nella regione Marche sarà possibile prenotare la vaccinazione anti-covid-19 per i bambini tra i 5 anni compiuti e gli 11 anni. Una nuova somministrazione che partirà dal giorno successivo, giovedì 16 dicembre, e si parte con 4 punti specifici nell'area Vasta 1. L'ospedale di Urbino, il distretto di Cagli, la Casa della Salute di Vallefoglia e l'ospedale di Muraglia a Pesaro. Le prenotazioni dovranno essere effettuate tramite la tessera sanitaria e il codice fiscale del bambino con le modalità ormai note attraverso il portale di poste italiane. Ad essere inoculato sarà il vaccino Pfizer-BioNTech con una dose ridotta, pari ad un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti e in formulazione specifica. Le due dosi andranno somministrate a 21 giorni di distanza e nei bambini severamente immunodepressi, il ciclo potrà essere completato con una dose addizionale dopo almeno 28 giorni dalla seconda inoculazione. Un nuovo step della lotta alla pandemia caldeggiato dagli stessi pediatri. Il primo consiglio è che dobbiamo tenere conto di quanto più contagiosa sia la variante che sta attualmente circolando e quindi di quanto stia adesso interessando e facendo ammalare i bambini, cosa che non era successa nelle prime fasi della pandemia con il virus originale e con la prima variante. Abbiamo tantissimi bambini che adesso si ammalano. La malattia non è sempre lieve, è vero, è nei bambini molto più spesso lieve rispetto agli adulti, ma anche nei bambini possiamo avere malattie gravi da Covid e quindi è importante proteggerli. Li proteggiamo per tante altre malattie perché non dobbiamo proteggerli per questa che è una malattia che può dare anche lesioni importanti. Come proteggerli? Ormai lo sappiamo, contro i virus l'unico modo per proteggersi veramente è il vaccino. La fascia pediatrica per ora è scoperta ma è proprio il virus che è cambiato ed è diventato più contagioso. Non è solo perché ci sono altre fasce che sono protette, è lui che riesce a far ammalare, a infettare anche bambini che hanno meno recettori, i bambini hanno molti meno recettori per il virus. Lui è più contagioso e lui riesce ad infettare e a farli ammalare. Ha parlato appunto di come il virus è mutato in questa fase. Il vaccino, che specificità ha per questa fascia pediatrica? Allora per questa fascia pediatrica è stato studiato un vaccino apposta. È sempre un vaccino ad mRNA con un dosaggio apposta per il bambino, adeguato al bambino. Questo vaccino può proteggere il bambino come ora ha dimostrato di proteggere l'adulto. È un vaccino sicuro, non rimarrà dentro di noi quello che entra con il vaccino, viene distrutto dopo pochissimo tempo, ma ci ha dato modo di difenderci, di imparare come difenderci nei confronti di questo virus.